Luce e ombre nella Reggio Emilia che esce dalla crisi. La nostra città si fa un po' più piccola, ma al tempo stesso più accogliente e capace di integrazione. E' ancora le prese con un elevato numero di persone in condizioni di vulnerabilità lavorativa, ma indeciso miglioramento sui valori relativi al PIL, all'occupazione, alla flessione del numero del senza lavoro e al reddito medio dei contribuenti. Dopo 28 anni abbiamo la provincia di Calcomo e il numero di abitanti, che sia molto poco, gli emigrati calano, quindi insomma è come se fosse un segnale di stabilizzazione di un fenomeno che è andato galoppando per due decenni. Quindi è un segnale che può essere letto in termini di minore attrattiva, ma io lo maneggerei in questo modo, di una stabilizzazione di un fenomeno che anche nelle province di Mitro che funziona così, non è soltanto a Reggio. Quindi a fine della piena, diciamo così, possiamo gestirci meglio di fenomeni molto forti che hanno messo sotto stress la provincia e anche i servizi per cercare un momento in cui prendere contatto con le caratteristiche di stagnazione che si è anche segnalato nei precedenti report, ma anche con i fenomeni di risalita che soprattutto con i indicatori di tipo economico danno anche dei segnali. Sono 100.000 tuttavia gli inattivi, anche se in questo dato devono essere ricompresi pure gli studenti da 17 ai 25 anni che hanno deciso di continuare i loro studi e sono ben 3.500 i lavoratori con i voucher, una delle nuove frontiere del precariato. Il controvertibile che è cambiato notevolmente, sta cambiando il modo di essere dell'immigrazione della nostra città. Noi abbiamo avuto per oltre 20 anni flussi migratori importanti, importanti, imponenti, di oltre 2-3.000 abitanti all'anno che hanno portato questa città ad avere quasi il 19% di popolazione residente di origine straniera. Da tre anni a questa parte questi flussi si sono invertiti, per cui in realtà l'immigrazione sta calando e soprattutto sta cambiando il modo stesso in cui si arriva in città. Prima era un'immigrazione totalmente economica legata alle dinamiche del nostro modello politico, oggi l'immigrazione è anche legata al sistema dei rifugiati, alle vicende dei rifugiati e non è un problema però strettamente reggiano questo, è un problema italiano, un problema europeo, un problema mondiale ed è un problema che va affrontato anche con l'aiuto del governo e di altre istituzioni perché naturalmente non si tratta soltanto di accoglierli ma si tratta anche di accompagnarli in un percorso di inclusione, di avviamento alla cittadinanza.